Due vittorie consecutive, due vittorie senza subire golle e il Nardò si tira fuori dalla zona play-out e torna a correre. Nel momento magico dei Granata ci sono una serie di fattori che è bene tenere presenti. Dalla difesa che adesso sembra funzionare, una squadra che nel corso delle prime giornate aveva dovuto fare i conti con numerose assenze. Dallo spogliatoio dicono il nostro campionato inizia adesso, o meglio è iniziato domenica scorsa contro il Casarano, contro una delle più forti compagini di questo girone H di Serie D. La vittoria del Nardò è stata orchestrata da grande squadra, buon gioco, trame importanti e poi la capacità di colpire al momento giusto con Gallo Bebidoro in prestito da Lecce. Ma non è tutto, perché quando i rosso-azzurri stavano venendo fuori arriva un capolavoro di Caputo alla terza rete nelle ultime quattro giornate. Un calcio di punizione perfetto, la giocata di chi deve prendersi la squadra sulle spalle. Così il Nardò si è rialzato, due vittorie di fila nelle ultime due le ha fatte soltanto la capolista Sorrento e nessun gol subito. Il vero campionato del Toro inizia adesso per davvero.